9.02, il colloquio ce l'ha da 9.15 quindi sono forse giusto preciso in orario Per fortuna sono in motorino quindi ci dovrei impiegare poco Sentiamo che cos'hanno da dirci, da proporci, andiamo! Colloquio è andato, interessante il fatto che facciano una settimana di formazione Cioè in cui ti impratichisci sostanzialmente a fare prelievi Per il resto non so, ci sono state un paio di cose che non mi sono piaciute troppo Però valutiamo comunque, devo rispondere a fine agosto per questa eventuale formazione E poi l'incarico che comunque è a chiamata Cioè in base alle mie disponibilità e in base alle loro necessità soprattutto ovviamente Quindi tutto sommato bene, è sempre buono sentire diverse campanelle Oggi vado in un'altra struttura, in un ospedale privato, a fare affiancamento E faccio questo affiancamento sia per capire se può essere un qualcosa che interessa a me E ovviamente loro per capire un attimo le mie capacità E anche per appunto insegnarmi un po' quello che c'è da sapere riguardo la gestione delle terapie Sono un po' stanco, ora mi rilasso, faccio le mie cose E poi oggi pomeriggio andrò lì Sono appena tornato dall'affiancamento in questa nuova struttura In cui vorrei fare magari delle guardie mediche E anche qualcosa di più, potenzialmente se uscisse Devo dire che mi sono trovato molto bene La ragazza, la dottoressa, appunto guardia medica Che mi ha illustrato un po' tutto Mi ha fatto fare il tour della struttura E poi mi ha iniziato a spiegare tutte le cose È stata veramente super gentile, fantastica E bene o male sono appunto i compiti della guardia medica Quindi